Ok, quindi sì, potete effettivamente per ordinarlo e giocare la campagna Sì, abbiamo capito il mess... sì, sì, esatto Urzikstan, dietro l'angolo È ricco Non manderemo la cavalleria, servono preparazione e pianificazione Servono violenze e tempismo, le mie specialità Ho preso la signora Capisco come ti senti, capitano È successo durante la tua missione, adesso vuoi rifarti Eh sì Minchia, comunque le cinematiche ho fatte benissime, ragazzi Cioè, è un film Ecco Mi servono dodici ore Non morire, John Ok Aswell non lo vorrebbe, e neanche io Kate non è sua amica, signore In guerra non ci sono amici, sono nemici Buona fortuna Bene Entreremo con Alcatala nel loro territorio Avranno centinaia di soldati a proteggerla E noi, invece, avremo un esercito Figo, figo Nick Eeeh, chi torna ragazzi Nicolai Mamma mia, i grandi nomi Comunque incredibili, le cinematiche sono fatte con una qualità totalmente diversa Cioè, è bella la grafica anche in gioco, è molto molto bella Però qua sembra letteralmente un film Farà pure, ok Poi se lo si vedesse in lingua originale c'è anche... Il lip sync sarebbe perfetto Ok, atterriamo Super ci addona Molto bene Nick, il convoglio è stato deviato Ricevuto Ok Si parte Siamo sulla zona d'atterraggio Bene, fallo atterrare Nick Gas Tu resti in elicottero e ci copri Noi andiamo in prima linea Ricevuto Svoltiamoli un po' Ci riprenderemo l'Aswell Yes Dick Ha detto Dick Ehi, vecchio Farà Grazie per l'aiuto I tuoi nemici sono i miei È un'amica in difficoltà Sei pronta? Pronti Ci vediamo in strada Vedete, qui si vede che è la grafica da gioco, ok? Non è più la cinematica Però è comunque molto bella Ricevuto Molto, molto bella Ok Nick Via libera A tutti Ci chiamo Sengladio Ricevuto Check Mèm 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 Ricevuto Nick Il burrone è un buon riparo Priorità al salvataggio di Laswell Ha ricevuto In quale veicolo si trova Alcatala la tiene nel sub nero Quasi in testa al convoglio Ops Ho rotto l'aereo Prima che abbiamo i mezzi di scorta Poi salviamo Laswell Prima che arrivino al confine Occhio a dove spari Ci sono civili Sull'autostrada Vabbè ma tanto quelli Sono un danno collaterale A tutti Fuoco a volontà Stiamo A due centimetri a terra Ma questo Questo Passa in mezzo Aia ma chi Cosa Ma Oh Sparate Ma cosa Ma non so neanche chi mi sta sparando Ma sono le macchine Guarda qua Stronzi Ecco Adesso Dipende dai punti Ah ma Ah ma sono qui Questi le vici Non l'avevo mica capito Io pensavo fosse sempre il nostro convoglio Ma si capisce un cazzo Eh qua stamo Tittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittittitta rate Ecco qua Al fuoco Al fuoco Ecco qua Sì ci provo Si muove tutto Ok Ancora vivo ma come Via libera Grazie grazie lo so Ecco qua easy No è lui è lui è lui Sto a menare Sto a menare Porca puttana Rattattattattattattattà Rattattattattattattattattattà Occhio a dove spari sul pick-up. Uno dei nostri è a bordo. Disvoltisca un po' umana. Ne hai vecchi tempi, Capitano. Fratelli, al prossimo veicolo. Fratelli. Ok. Come veicolo alleato? Ma che stai a dire? No! Porca puttana! I fratelli. Niente. Vabbè, e... Eccoli. Oddio. Gli stronzi sono corazzati! Io ci provo! Che cazzo! Ok, mi sa che doveva andare così. Ok, non è colpa mia. Sì, vabbè. Beh, me... Capitano, Gass è caduto! Cosa hai detto? Mr. Seth è andato! Non sono morto, Nick! Sono appeso a una corda! Porca puttana! No! Sali! Sali! Ma cosa... Non ci sto provando! Cosa sta succedendo, ragazzi? Ma non ha senso sta missione. Cazzo cazzo! Oh, ma tirate su sto elicottero, imbecilli! Adesso ho da fare, Capitano! Ma che cazzo è che guida l'elicottero? Bocelli! Ma tirate su! Vabbè, qua un millimetro... Non mi sto appeso così come un salame tutto il tempo, no? Capito? Eh, vabbè. Vabbè, è normale, va bene, va bene. E ormai questa è la nostra posizione, ragazzi. Non posso salire ancora, dovrai tagliare la fune! Niente, finiamo sul... sul camion, uccidiamo tutti quelli che ci stanno dentro, adesso. Sono libero! Torna a combattere, sergente! Ecco qua, permesso! Dobbiamo avanzare di più! Questa è la mia macchina, adesso! La sto già guidando prima ancora di entrare! Convoglio ancora in vista! Affermativo, Gal! Ammazzane più che puoi e raggiungi l'Aswell! Conta pure sui miei soldati, sergente! Ok! Voi invece dove siete? Vi raggiungiamo! Io sto guidando mentre esco, sparo con un piede do gas con l'altro controllo il volante! Ma che cazzo, ragazzi, ma... Cioè... Questo è competente fuori di testa! Competente fuori di testa, sta missione! Ok, io sto guidando la macchina mentre sono fuori, cioè... Cruise control, visto? Sembra la mia macchina, io in autostrada uguale, io in autostrada non guido, perché tanto ho il cruise control e anche... Buonasera, fieni! Questi che cazzo suonano! Sì, li vedo! Non mi siete accorti che c'è una sparatoria? Ma come un civile? Ma mi stava sparando! Ma che civile ho ucciso? Oh! Più avanti c'è un camion verde! Sono i soldati di fara! Sì! Li vedo! Che cazzo i civili sono questi? Sì, trovate un altro veicolo! Eh, ho premuto F per scendere, ma... Ok Zio Peppe, grazie ai 43 mesi, sta missione ha veramente senso, ragazzi, ma che cazzo? Più avanti c'è un camion verde! Sono i soldati di fara! Sì! Li vedo! Ma posso prendere tipo questo? Ok Guardate, io già sto guidando il veicolo, ragazzi! Oh, questo è quello che mi stai in questo video! Erano gli uomini di fara! Conoscevano i rischi, sergente! Concentro di sul nemico e salva l'arwell! Premesso! Via sta baracca di merda! Via! Noi ragazzi, ma altro che GTA, c'è qua! Vorrei rubare questo, se possibile. Vediamo un po'. Ok, direi che è possibile. Nick! Che cosa vedi? Chi tra gli attrici o le tera? Ok, questo pure è mio, apposta. No! Non loro, quelli sono alleati! Ma cosa, alleati? Ma che cazzo il gioco sta vedendo quest'altro? Raga, ma porca puttana! Che casino, ragazzi! Si è rotto il camion! Ok. Preso al volo, ora! Ok. Mo' rubiamo questo. P*** ti stai fermando! Io in realtà stavo rubando... Ho fatto il più sbagliato, ragazzi. Non vedo! Cosa, cos'è, cos'è? Cosa sta succedendo? Mamma mia, che bordello, eh. Ok. Nick! Che cosa vedi? Ma quanto ancora devo andare avanti? Diciamo che l'ignoro, questo. Oddio. Sì, penso sia una buona idea. Proviamo un altro veicolo. Questo mi piace. Vediamo un po' se riesco a prenderlo, però. C'è ancora un tizio. Vabbè, sti cazzi. Appena lo sequestro... Ragazzi, è... 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 È un bordello incredibile. Ma che cazzo è sta missione? Ah... Qui mirare è un... È complicatissimo. Ok. Preso. Ok. Vediamo un po'. Vediamo tipo se riesco a schippare tutta sta gente. Che... Che cosa vedi? A sparare a tutti mi rompe un po' i coglioni. Eh no. Questo è troppo... Duro a tirare giù. Facciamo così, bypassiamo tutto. Andiamo di qua. Ok. Questo si può prendere? Questo si può prendere, ok. Sì, vabbè, ragazzi. Ha fatto una roba qua che non sta nel cielo e in terra. Vabbè, si è diventato... Si è entrati in un film della Marvel all'improvviso. Basta, ma quanti ce ne sono ancora? Oh, che d'accordo? Per andretto. Sono teletrasportato dentro un... Sego il convoglio verso nord. Dentro la macchina. Noi ti stiamo dietro. Gas, Nick. I miei segnalano un blocco stradale di Alcatala. Confermo. Lo vedo. Dovrai buttarlo giù con la forza. Cosa? Fondalo. Uccidile più che puoi. Non mi fermerò. Ma è la madonna. Permesso! Ti è andato male. Nick. Sono passato. Toca i seri. Mi venivo una metafora, ma non penso la dirò. Mi ricordo un certo momento. Allora. Come siamo messi qua? Che cazzo succede qui? Alcatala sta minando l'intera autostrada. Questi sono civili, Nick. Eh. Alcatala deve bruciare. Io porterò i fiammi. Mine più avanti, sergente! Oddio. Un attimo. Oddio. Da dove vengono queste mine? Cos'è sponano per terra? Oddio, 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 oddio. Colpiscono i civili. Quel camion deve sparire. Si avvicina al camion con le mine. Confermato. Ragazzi, mi sembra alquanto difficile sta missione, comunque. Questi sono civili, Nick. Alcatala deve bruciare. Mine più avanti, sergente! Io porterò i fiammiferi. Adesso stiamo attenti alle mine. Ok. Raga, ma è difficilissima sta missione. È infinita. Ti mette davanti mille ostacoli. No, sbagliato, sbagliato, sbagliato. Ok. Da dove vengono queste mine? Vediamo un po' se ce la facciamo. Al camion che si precede! È che io devo uscire e sparare, però nel frattempo... Devo anche scavare le mine. Questo mi sta sparando dal lato. Colpiscono i civili! Quel camion deve sparire! Ti avvicini al camion con le mine. Sergente, trovati un altro veicolo! Ragazzi, che cazzo devo fare? Che cazzo emissione è questa? Oh, Gesù Cristo. Questi sono civili, Nick! Alcatà la deve bruciare. Viene più avanti, sergente! Io porterò i fiammiferi. Che macello, cioè, ma... Ok che sia una difficoltà esperto, però... Ma è proprio incasinata la missione, cioè... di stare attento a troppe cose insieme. Allora, questo qua... No, niente, non riesco a prenderlo. Qui sono i suoi camion, se ci sto dietro in teoria... Oh. Ok. Ecco qua, ragazzi. Colpiscono i civili! Quel camion deve sparire! Si avvicini al camion con le mine! Confermato! Ci sto provando! Mi taglio la strada! Eccomi, bastardi! Ecco qua, ragazzi! Molto bene! Prendo io questo! Ma che ca... Oh! Che è successo? Oh! Ma... Vabbè, ragazzi. I controlli sono difficilissimi. Mi ha lanciato fuori mentre stavo rubando la macchina. Ecco, ovviamente da qui. Da dove posso mai ripartire. Questi sono civili, Nick. Al catalla delle bruciare. Mine più avanti! Mi ha portato i fiammiferi! Sì, sì, sì. Oh, Gesù, ragazzi. È lì mentre stavo rubando la macchina, sono volato fuori. Da dove vengono queste mie? Ma facciamo così. Questa la si spizza. Lì bisogna ammazzare il tizio che mi spara, ecco. Bene. Ora. Questi li superiamo. Qua sono un passo ovviamente legale. Colpiscono i civili! Quel camion deve sparire! Ti avvicini al camion con le mine! Confermato! Un ucciso. Ok. Mine sistemate! Ok, prendiamo questo che è messo meglio. Qui sparisce. Molto bene. Allora. A tutti! Potete aggiornarmi? Non sparare, sergente! Non sparare! Sto passando sul cavio indietro di te! Adesso devo passare il capitano Price. L'ho appena superato! Ok. Capitano! Rinforzi di Alcatara! Ti serve più potenza di fuoco! Vieni, sergente! Andiamo! Devo salire qua, immagino. Per fortuna sei ancora intero. Prendi il lanciagranate. Dov'è? Dov'è? No, non è questo il lanciagranate. Eccolo qui. No, neanche questo. Sergente, il lanciagranate è tuo! Prendilo! Ah, me la dovedo da lui. Ok, grazie. Bene, capitano. Gli ordini? Tanto che ci avviciniamo all'Aswell, cambiano tattica. E come? Prima li seguivamo. Ora ci seguono loro. Che ci provino. Siamo nella merda. Voglio vederli. Dietro è Fara. Ah, ok. Ci siamo! Muoviamoci! Capitano! Vieni via Alcatara! Stanno tornando! Voglio noi trappolarli! Ci pensiamo noi! Arrivano Fara, occhio! Gas, attacca con il lanciatore! Ok! Ci sono! Ecco qua, bastardi, sparite! Ecco qui, via. Carichiamo. Mitragliatrice, a destra! Oddio, rif. Fuoco su quella mitragliatrice! Eh, la madonna! Quanto regge! Bastardo ucciso! Ottimo lavoro! Sto prendendo le munizioni, ma... Non me le sta caricando. Non è bene, non è bene. Capitano, il convoglio gira a sinistra! Vendono una scozzatoia per il confine! Ok, Nick! Stagli addosso! Alle vostre spalle! All'attacco! Sono pronto a sparare! Bombe! Spara! Sta vicino! Ci siamo! Ok... 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 Nick, riesci a vedere il veicolo di Laswell? Affermativo, capitano. Insieme a molte forze di Alcatala. Uy, che veramente infinita sta missione, mamma mia. Sei, chiudo. Laswell sarà protetta dai loro soldati milioni. Ci stiamo avvicinando! Dobbiamo allargarci! Gaz, prendi un veicolo. Colpiremo da ogni possibile direzione. Tocca lanciarsi un altro veicolo. Gaz prende un veicolo. Eccomi. Questo è il mio? Vado? Qualcosa dice che... Prendi un altro veicolo, Gaz. Dobbiamo allargarci. Come? Cosa ho fatto di... Ma non è colpa mia? Via libera, dietro! Nick, riesci a vedere il veicolo di Laswell? Vabbè. Cazzo mio dio, ragazzi. Affermativo, insieme a molte forze di Alcatala. Tieni l'adocchio, Nick. Sei, chiudo. Laswell sarà protetta dai loro soldati migliori. Perus. Stiamo avvicinando! Dobbiamo allargarci. Gaz, prendi un veicolo. Colpiremo da ogni possibile direzione. Gaz prende un veicolo adesso. C'è una nuova notifica. Prendi un altro veicolo, Gaz. Dobbiamo allargarci. Questo è il mio. Salve. Ah, lui era un cattivo. Lui era lì che guidava tranquillo apposta. Vabbè, bella. Oh, bro. Ecco. E si torna a sparare. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Grazie, Alex Joker, per il Prime. Benvenuto, Alex. Grazie mille. Ci stanno altri pezzi di merda. E io gli sparo. Via. Preso. Questo camion è bello resistente, vedo. Molto bene. Giungi a testa il convoglio. Ma questo convoglio è infinito, ragazzi. Ma what the fuck? Mizzile nemico. Verso di te, per te. Eh, la madonna. Ti sta puntando, Gaz. E che cazzo devo fare? Uccido, sergente. Eh, arrivo. Uccido tutti. E a terra. Avanti. Che cazzo. Uccido tutti. Gaz va a menarmi, ragazzi. Gaz è l'unico uomo d'esercito americano, proprio. Dimi che devo andare di qua. Alcatala sta schierando dei droni bomba. Ricevuto, Nick. Dove prendono i droni bomba? Dal Maggiore Hassan. Io sono venuto in tipo. Anabel Bisama. Aiuta, Alcoedo. Eccoli, lassù. Distruggiamoli subito o siamo morti. Pro. Ci si prova. Pirota del drone è ucciso. Eccoli. Un altro gentile signore. Ok. Ormai, ragazzi, c'è... Non so quante macchine mancano ancora. Attenzione. Corazzato nemico più avanti. Non siamo equipaggiati per distruggere un corazzato. Vabbè, ma tanto c'è Gaz, quindi... Quale è il problema? Io tiro il fuoco per farti salire. Ecco. Ricevuto. Non siamo equipaggiati per distruggere il corazzato. Tranquilli, laga. Gaz si lancia dentro, ammazza tutti e prende controllo del corazzato. Easy. Ah, però. Oh, guarda qua. Forca puttana! Muoviti, Gaz! Non farti sparare addosso! Ma non lo sto facendo! Sembra le missioni Crash Bandicoot, ragazzi. Guarda che lancia le mine così. Sembra Crash Bandicoot. Guarda adesso tu, 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 tu. Sergente, devi avvicinarti al corazzato! Lo sto facendo, Dio bono! Sergente, trovati un altro veicolo! In posizione! Ora, sergente! Ok, sta pronto! Sali sul corazzato! Uscite vicolo bloccata! Non mi fa uscire! Piazza una carica e fattere via, sergente! Ecco, ci penso io, ragazzi. Tranquilli. Ecco, tieni. Regalo di Natale. Ciao! Andiamo, andiamo! Mamma mia, il sergente, ragazzi. Il sergente Gaz è letteralmente... Può entrare a far parte di Avengers senza poteri e senza tuta di Iron Man. Lui tanto è già super eroe. Easy. Vale, Nicolai, sono davanti a noi! Ricevuto! Si spara ancora! Si spara ancora! Molto bene! Spariamo a tutti! Il capitano deve salire sopra ogni camion per andare a uccidere i cattivi! Questo è il capitano! No, no, capitano scappa! Che meglio! Non esageriamo. Carica, capitano, carica! Ecco qua. Il capitano potrebbe nascondersi tra un camion nell'alto. Il capitano insegue i nemici saltando sulle... sulle varie veicoli. Ecco qua. Perché questo è il capitano. Ecco! Forse è un po' esagerato, ragazzi. Forse questo è un po' esagerato, devo dire. Però faceva molto d'ora il capitano, questo. Ma c'è ancora il lanciapatate qua, non c'è più. Unlucky. Deve essere un veicolo diverso. Io l'avevo lasciato qua il lanciapatate. Lancia un avalato! Eeeh... E i corazzati sono difficili a tirare giù, perché devi sparargli in testa. Tocchiamocela come andrebbe giocata, va, che meglio. Sta durando un botto a sanizioni anche perché sono morto un paio di volte. Ma perché non posso andare qua sopra? Dio mio! Mori invisibili e inutili di code. Sto grattando. Ok. C'è uno sparare continuo. Oddio. Ok. Oddio. Noni, noni, noni! Ok. Proe, devo fare tutto io. Eccomi qua. Chi c'è qui dentro, eh? Attenzione. La Madonna, ragazzi! Via libera! Non so se sei su switch a Eroder, ti sarò messo. È finita. È finita. È una riunione di famiglia. Farebbe un po' di difficoltà a girare, ecco. Fare. Belle mosse, Laswell. Anche voi? Tutti quanti. Siamo ad Almasra. Ci serve un posto sicuro, ora. Ha ragione. Il gel al hadud! Andrebbe cammell al hadud! Ah, però. Sì, sta missione, ragazzi, è un po' schifo. C'è più che altro... C'è troppo fuori i ca... Ok, che... Grazie, Farah. Ero in debito. Sai che è il contrario. Beh, siamo pari. È un po' esagerata, perfino per quello di tutti, ragazzi. Sto bene, ok? Ok. Fottuti russi. È sempre colpa dei russi, ragazzi. Solo a Sanne e un'altra persona sanno dove si trovano. È una casa di Alcinombre? No. Un suo lugartenientes. Un luogotenente del cartello? Te l'avevo detto. Stai imparando. Pare che stasera ci saranno tutti i VIP di La Salmas qui. Alcuni invitati, altri... Sollicitati? Sì. Alex dov'è? Eh... Chi lo sa. Dai, tanto si sa che è sotto la maschera di Ghost, tutto sommato. Io preferirei di nuovo. Intanto dire che una villa non è un problema. E il sinnombre ci serve vivo. Allora... Dobbiamo incontrarlo. Come? Eh già. Vogliono informazioni? Diamogliele. Vogliono sapere chi siamo? Diciamoglielo. Di persona? Corretto. Uno di noi entra, trava il boss e lo prende. Vado io. Se entri lì dentro sei morto, hermano. Correrò a questo rischio. Vabbè, Ikitrius, ma è sempre così, eh. E allora fermiamolo. Non è che l'hanno fatto adesso, guarda caso. Tutti i Call of Duty, c'è... Si è sempre contro il Medio Oriente e Russia. Ma là dentro ti servirà una mano. Vengo anch'io. Io darò copertura. Shadow sarà in zona con un elicottero. Ci sto. E vorranno delle prove. Tieni questa. Disertore. Chiama se serve. Forza, mettiamoci al lavoro. Ok. Ragazzi, io direi che per adesso abbiamo fatto abbastanza. Poi, ovviamente, la riprendiamo e la finiamo. Molto, molto bello. Mi piace. Ma io sono sempre stato amante delle campagne dei code. Soprattutto le campagne... Anche le campagne dei Black Ops, in realtà. Molto, molto fighe, devo dire. Soprattutto quella di Black Ops 1, fatta da Dio. Amici, io mi sa che vi saluto. Grazie per essere masti in live. Mando la prima pubblicità della live, mandata da me. Se ne avete viste altre, non sono state mandate da me. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto un sacco. Sono sincero. Mi è piaciuto anche giocarlo con voi. Non so cosa farò stasera. Dipende a che ora mangio. Dipende se sono stanco oppure no. Anche il 2 era molto carino. Però Black Ops 1, boh, era molto... Cioè, era figo. Non lo so. Tutti belli, tutti belli. E boh, in caso magari ci becchiamo stasera, non lo so. Vedo un po' come mi gira. Se mi vedete bene, se non mi vedete male. Ok? Grazie a tutti per essere masti in live. È stato un piacere streamare per voi. Se non ci becchiamo stasera, ci becchiamo domani. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.